Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo. Il settimanale di Fano TV prosegue. La rincorsa alla 2 della Smart System, saltato anche l'ostacolo. Motta di Livenza, non senza fatica. Sguardo già proiettato verso le semifinali di questi play-off, dove la squadra fanese incrocerà Belluno. Avremo modo di approfondire tutti i diversi argomenti con Emilio Cenerilli, presidente del club fanese. Buonasera e bentornato. Buonasera Andrea, grazie per l'invito. E con Pietro Galdenzi, centrale della squadra Virtussina. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Partiamo proprio da quello che è successo e ne sono successe di cose. A Motta di Livenza in gara 2 di questa sfida dei quarti di finale. A un certo punto della gara sembrava tutto realmente compromesso. Sotto di due set, come vediamo dalle immagini. Smart System che si è trovata sul 20-24 e quindi nella condizione di dover annullare 4 match point. Alla fine della giostra ne annullerà addirittura 11 e porterà a casa un successo, per certi versi, insperato al quinto set. Emilio Cenerilli era ovviamente sugli spalti. Cosa ha pensato sul 24-20? Ho pensato alla gara di mercoledì, che avremmo dovuto giocare in una condizione psicologica piuttosto compromessa. E quindi naturalmente pensieri non belli. Per fortuna poi c'è stato questo momento di buio loro. Noi abbiamo probabilmente cominciato a mettere in campo qualcosa in più, siamo riusciti a girare una partita che era persa, era persa ampiamente e per fortuna l'abbiamo portata a casa. Adesso abbiamo un'intera settimana per preparare le semifinali contro Belluno. Sul campo probabilmente non si fanno tutti questi pensieri, si gioca e basta, ma qualche riflessione sul 24-20? Pietro, l'avete fatta in cuor vostro? Le tensioni erano molto grandi, infatti bisogna fare, secondo me, i complimenti sia a Mastrangelo per la gestione della partita, nell'aver messo Luca Gori, che è stato un elemento fondamentale in questa partita contro Motta, che ci ha permesso di portarla fino al 3-2. L'inserimento appunto di Gori, la sua serie al servizio ha messo un po' in crisi la ricezione di Motta di Livenza, che probabilmente in quel momento della partita si è sentita la vittoria in tasca e questo nella pallavolo può risultare fatale. Sì, sì, credo sia andata esattamente così. Luca è stato bravissimo naturalmente, ha fatto il suo, l'ha fatto molto bene. È chiaro che loro pensavano già, credo che anche loro pensassero già alla gara di mercoledì. E come hai detto tu, quando è così nella pallavolo soprattutto diventa tutto molto complicato. Non è stato soltanto straordinario il recupero in quel terzo set, ma appunto i match point che Motta di Livenza ha successivamente inanellato, anche nel quinto sono stati complessivamente undici, se non altro è emersa la resilienza di questa Smart System, che ha saputo riemergere da una serata che anche sul piano del gioco ha lasciato un po' a desiderare, Pietro. Sì, abbiamo in alcuni frangenti della partita, abbiamo fatto particolarmente fatica. Loro giocano molto bene nel loro palazzetto, noi abbiamo arrancato, però siamo stati bravi a tenerla fino all'ultimo. Fattore campo, la Smart System lo sta facendo valere ampiamente da due anni, perché in pratica è imbattuta dall'inizio della stagione scorsa, ma anche gli altri fanno sentire il peso appunto del campo amico. Motta di Livenza non perdeva in casa da dicembre dell'anno scorso ed evidentemente si trova più a suo agio in casa che in trasferta, come ha dimostrato Afano. Sì, è un impianto anche molto complicato quello di Motta, è molto basso, piccolo, quindi è chiaro che per squadre abituate come la nostra ad esempio ad avere spazi diversi non è certamente semplice. Quello del fattore campo è un aspetto importante, speriamo sia decisivo anche per le semifinali, abbiamo il vantaggio del fattore campo in queste semifinali con Belluno. Giocare da noi non è mai facile per nessuno, come dicevi sostanzialmente siamo imbattuti dall'inizio della scorsa stagione, quest'anno abbiamo perso la partita di finale di Coppa Italia e contro Palmi e per il resto abbiamo sempre fatto tra il bene e il molto bene. E quindi è chiaro che cercheremo di far valere questa situazione anche contro Belluno, serie che ricordiamo inizierà domenica in casa alle 19. e insomma speriamo che questa bella tradizione venga mantenuta. Le scene di esultanza che abbiamo visto a fine partita direi ampiamente giustificate, chiaramente una vittoria di questo genere dopo una partita che ha avuto questa dinamica dovrebbe trasmettere grande forza, grande entusiasmo, grande cariche, così? Sì, il morale è molto alto in questo momento per affrontare quest'ultima parte dei playoff al meglio. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere un pubblico che ci ha seguito comunque fino a San Donà, che ci ha supportato e quindi questo è stato anche molto utile per noi. Un pullman di tifosi al seguito, anche loro probabilmente l'avano battezzata persa ad un certo punto e anche nel loro caso credo che alla fine la gioia sia stata doppia. Sì, sì, assolutamente, sono stati grandi davvero, erano un gruppo, una ventina di persone, 20-25 persone, rumorosissime, hanno fatto veramente un tifo scatenato durante la partita. Li ringraziamo davvero tantissimo, li abbiamo sentiti, i ragazzi li hanno sentiti e poi quando abbiamo portato a casa il terzo set, insomma, lì poi si è cominciato veramente a credere nella possibilità di portare a casa l'intera posta, per cui sono stati davvero grandi. L'effetto tifo naturalmente si fa sentire molto di più al Palace Allende, rivediamo qualche immagine nella clip di gara 1, sempre con Motta di Livenza, in quel caso successo decisamente più agevole. Cosa vi trasmette il Palace Allende se davvero anche voi sentite in qualche modo la spinta che arriva dal giocare in casa, perché i risultati parlano chiaro? Sicuramente il grande quantitativo di persone a favore aiuta molto nel gestire il gioco. Poi i punti di riferimento comunque ci sono più noti all'interno del palazzetto e quindi riusciamo ad esprimere sicuramente un gioco migliore. Battuta e muro sono ormai dichiaratamente i fondamentali strategici di questa squadra, anche se poi a Motta di Livenza i 25 errori a servizio e anche il numero di muri inferiore a quello della squadra di casa sono stati un po' in controtendenza. E però, Pietro, sono questi gli aspetti centrali del vostro gioco, battere forte, mettere in crisi la ricezione avversaria e poi il muro fa il resto. Noi lavoriamo su tutti i fondamentali, sicuramente la battuta è uno di quelli più importanti per noi insieme al muro, bisogna fare i complimenti comunque a Catone. Essendo un centrale comunque posso dire di aver fatto difficoltà durante tutte le situazioni di gioco, quindi non è stata per niente una partita semplice. Dal punto di vista tecnico, il Presidente di questa Smart System, come legge la situazione attuale, al di là appunto degli equilibri che possono essere dettati dal fattore campo piuttosto che da altri elementi, in particolare la condizione psicofisica complessiva con cui si giocano questi play-off, è una Smart System nella condizione di andare avanti? È una Smart System che è stata costruita per andare avanti e di conseguenza questo è l'obiettivo che ci poniamo. È evidente che il livello di gioco espresso a motta non è sufficiente. Belluno è una squadra molto forte, è una squadra che mura molto, mura bene e naturalmente dovremmo essere bravissimi a tenerli lontano da rete, quindi ritorna il tema della battuta. A muro possiamo fare certamente meglio, l'abbiamo dimostrato durante tutto il campionato. È chiaro che il livello di gioco espresso, ripeto, a motta non sarà sufficiente per superare le semifinali contro Belluno. Rivadisco, in casa abbiamo sempre espresso una grande pallavolo, non c'è nessuna ragione per la quale non si possa ripetere questa situazione e i ragazzi hanno tutta la settimana, hanno ricominciato oggi ad allenarsi e hanno tutta la settimana per preparare questa partita e ricordiamo che abbiamo anche il vantaggio del fattore campo e quindi un'eventuale bella si giocherebbe di nuovo a Fano. Quindi è chiaro che su questo puntiamo molto. Affermare che sono tutti i titolari spesso si traduce in un modo di dire per far sentire tutti coinvolti. In realtà nel caso del Mass System ci siamo vicini, nel senso che Mastrangelo ha promosso Galdenzi titolare, ha dato fiducia a Gori in quella serie fondamentale, in occasione della gara d'andata ha fatto esordire anche a Magnanelli che si è tolto anche la soddisfazione di firmare un ace. Margutti è quello che abbiamo definito la giusta tutto, nel senso che lui entra quando le cose non funzionano proprio al meglio e le sistema. Insomma vi sentite veramente tutti i titolari in questa squadra? Assolutamente sì, siamo diciamo coperti, nel senso che la panchina non esiste. Quando c'è bisogno siamo sempre pronti, tutti entrano e fanno il meglio, il possibile per portare a casa il risultato migliore. Quindi assolutamente siamo tutti i titolari e non esiste una vera e propria panchina. Nel tuo caso credo che Mastrangelo abbia potuto apprezzare anzitutto la prontezza, nel senso che tutte le volte che ti ha chiamato in causa appunto sei riuscito a portare il tuo mattone, ma anche diciamo la tua versatilità, nel senso che fai il tuo in prima linea, ma anche in seconda non è che te la cavi male, la battuta è sempre piuttosto incisiva e anche in difesa qualche pallone contrariamente a quello che è l'attitudine dei centrali in generale. La tieni su? Sì, quasi un centrale atipico diciamo, nella difesa mi piace molto anche lo stare in seconda linea, la possibilità per quanto in un tempo ridotto essendo centrale, però è molto importante anche la difesa, quindi certo e ti ringrazio anche. Play-off che hanno riservato più di qualche sorpresa, perché si diceva durante la stagione, ma il girone centro-sud quest'anno è molto più competitivo, sì Macerata alla fine è riuscita a centrare la promozione in due, complimenti tra l'altro Maurizio Castellano, ma soltanto dopo aver annullato due match point promozione a Mantova, che ora confluisce nelle semifinali ed è una delle tre squadre in realtà del giro nel centro-nord. Come vediamo dal quadro, Mantova affronterà Sandonà, che a sorpresa ha eliminato Lago Negro, oltretutto in due partite, mentre la Smart System avrà a che fare con Belluno, che forse con ancora maggiore stupore degli addetti ai lavori, ha liquidato in due partite, e nettamente Palmi, che veniva indicata come la favorita numero uno, non solo in virtù dei successi in Coppa Italia e Supercoppa. È esattamente così, Belluno ha fatto davvero benissimo contro Palmi, forse non il miglior Palmi che abbiamo visto le ultime due partite, sicuramente non hanno espresso il miglior Palmi della stagione, e Belluno però, ripeto, è una squadra molto forte, è una squadra molto ben organizzata, per cui è sì una sorpresa, ma neanche tanto grande, e come dicevi tu, alla fine ci sono tre squadre del giro nel nord, in semifinale, l'anno scorso eravamo nel giro nel nord, e dicevamo che il giro nel sud è più scarso, e quindi vediamo come andrà nei play-off, in realtà quest'anno è il contrario, abbiamo sempre detto che il giro nel nord è più scarso, invece vediamo che nell'Apollo Vulo, come si diceva prima, non si può mai dire. Questa è la situazione, Manto va contro Sandonà, Smart System contro Belluno, e la vincente si giocherà alla finalissima per andare poi in A2. Abbiamo di nuovo il fattore campo favorevole, eventualmente con Sandonà, giusto per raggiungere uniformazioni. Con Mantova sarebbe diverso. Smart System che sta in qualche modo gestendo anche il peso del pronostico, altre squadre come Palmi evidentemente la pressione l'hanno avvertita, nel vostro caso sembra che tirate avanti indipendentemente dal fatto che questo secondo posto nel girone centro-sud e comunque un ruolino di marcia decisamente confortante, soprattutto in casa, vi attribuiscono delle responsabilità. Noi sappiamo qual è comunque il nostro obiettivo, non arrivare prima nella regular season, sicuramente dal punto di vista del tempo ci ha penalizzato, in questo momento Macerata ha finito, è in vacanza si potrebbe dire, però comunque noi siamo fermi sui nostri capisaldi, qual è il nostro obiettivo, quindi continuiamo per la nostra strada. Qualche immagine della vittoria di Belluno a Palmi, vittoria assolutamente cristallina di una squadra che è in salute, perché nel girone d'andata ha fatto molta fatica, era indicata come una delle pretendenti alla promozione, in realtà è rimasta attardata, ha anche mancato la qualificazione alla Coppa Italia. Poi nel girone di ritorno soltanto due sconfitte e nei play-off finora 4 su 4, una squadra piuttosto compatta che ha svoltato nel momento in cui in regia ha vicendato Maccabruni con Ferrato, che la Virtus conosce bene perché guidava quell'ortona che l'anno scorso ha giocato un brutto scherzo proprio nella finale per la salire in A2. Sì, è così, è esattamente come l'ha raccontata. Affronteremo una grande squadra, ci prepareremo, saremo pronti a giocare questa grande sfida di domenica ed è evidente che ci aspettiamo il pubblico delle grandissime occasioni. Belluno, l'avete già inquadrato oppure è ancora presto? La settimana è lunga. La settimana è appena incominciata, adesso inizieremo a studiarle bene. Comunque sappiamo che non sarà una partita semplice, noi ci ricordiamo bene la sconfitta a Palmi 3-0 e loro sono riusciti nell'impresa di portarla subito 3-0 chiudendola addirittura 25-12. Quindi sappiamo che non sarà per niente una partita facile. Belluno all'opposto Mancino come motta di livenza, questo vuol dire che nel prendere le misure siete un po' avvantaggiati, vi siete portati avanti con il lavoro. Speriamo, speriamo che ci torni utile questa cosa. Dicevamo di questa sfida di domenica al Palace Allende, si gioca alle 19, dopodiché gara 2 mercoledì 1 maggio, abbiamo già detto dell'effetto Palace Allende, però è chiaro che nei play-off è un effetto che si deve sentire in modo particolare. Sì, assolutamente, ci aspettiamo, abbiamo avuto un pubblico straordinario durante tutta la stagione e che ringraziamo naturalmente, ci aspettiamo davvero il pubblico delle grandissime occasioni, abbiamo bisogno del supporto di tutti, il palazzetto pieno ci ha sempre dato una spinta ulteriore per portare a casa le partite e quindi è chiaro che adesso più che mai abbiamo bisogno della vicinanza del nostro pubblico, aspettiamo davvero tutti numerosi domenica alle 19 al Palace Allende. Smart System che ha già proiettato però lo sguardo oltre questa stagione con la conferma di Mastrangelo addirittura fino al 2026, l'abbiamo commentata quasi in tempo reale con il diretto interessato qualche settimana fa, una scelta che si lega a quali considerazioni e qual è la prospettiva che sta disegnando la Smart System? Ovviamente su questa prospettiva la categoria inciderà in maniera comunque pesante. Assolutamente sì, il ragionamento che abbiamo fatto è stato molto semplice, siamo molto contenti del lavoro di Vincenzo, è arrivato in punta di piedi, ha cominciato veramente a lavorare molto bene con i ragazzi, noi siamo veramente molto soddisfatti, è un allenatore di grande spessore, l'idea è quella di dare continuità, di portare avanti con lui un progetto, è un progetto quindi che si svolge in un ambito triennale, che per ulteriori due anni è evidente che l'obiettivo nostro e di Vincenzo è quello di salire di categoria, è un obiettivo che abbiamo sempre dichiarato, non ci nascondiamo dietro un dito, ovviamente proveremo a farlo quest'anno, ma il contratto con Vincenzo non prevede nessun tipo di situazione riguardante l'anno prossimo, l'anno prossimo, per cui se dovrà essere a tre sarà di nuovo a tre, ma con l'obiettivo chiaro dichiarato fin dall'inizio di provare di nuovo a vincere il campionato, questo è lo spirito che ci contraddistingue, è quello che vogliamo fare, è quello che vogliamo fare insieme a Vincenzo. Grazie a Emilio Cenerilli, presidente della Smart System Fano, grazie a Pietro Galdenzi, centrale della squadra affanese, noi torniamo fra qualche attimo. E siamo ora al calcio, acqua sul fuoco delle speranze di salvezza dell'alma, che erano state riaccese dal successo casalingo con i Roma City, a Sora per la prima di due trasferte consecutive, la formazione Granata, come vediamo dalle immagini, è uscita nuovamente sconfitta in trasferta, lì dove ha raccolto pochissimo in questa stagione, nessun successo, se non si tiene conto di quello cancellato a tavolino, a Fossombrone. Alma che è andata quasi subito sotto, nell'azione che stiamo vedendo, che non ha avuto, soprattutto nel primo tempo, la reazione che ci si sarebbe attesi, che poi nel corso della ripresa, anche in questo caso, tra poco potremo vedere le immagini, dopo un paio di situazioni sporche, che avrebbero potuto generare anche l'uno a uno, ha finito per incassare anche il secondo gol, direttamente su corner, palesando evidentemente qualche difficoltà, nel leggere le traiettorie a centro area, qualcosa dovrà essere rivisto, in funzione delle prossime due partite. Tardivo il gol, arrivato a ridosso del novantesimo, anche se poi il recupero è stato piuttosto consistente, ancora una volta, González ha fatto valere la sua abilità su calcio piazzato, ma appunto non c'è stata poi l'opportunità di rimettere a posto le cose, i risultati dell'ultimo turno, tra l'altro sono stati dichiaratamente sfavorevoli, in fondo alla classifica, soltanto Matese sconfitta nella gara, che ha disputato in casa con il Termoli, ed era comunque un confronto diretto, United Riccione all'Aquila, sono uscite battute come l'Alma, Real-Monterotondo, che invece si è avvantaggiato ulteriormente, grazie al 3-1 sul Chieti, Fossombrone quasi in salvo, in forza dell'1-0, ottenuto proprio sul campo del Roma City, mentre ha inciampato il Tivoli, in casa con l'Avezzano, prossimo avversario della squadra Granata, si gioca ancora una volta fuori casa, i conti sono presto fatti, soltanto due vittorie su due, compresa quella nell'ultima giornata in casa, con il Monterotondo darebbero la garanzia di disputare i play-out, perché come vediamo dalla classifica, oggi l'Alma sarebbe retrocessa direttamente, terz'ultima sì, in virtù della differenza reti favorevole rispetto al vasto Girardi, ma con un ritardo di 8 punti dalla Sestuniva, chiaramente battendo anche il Monterotondo nell'ultima di campionato, le due vittorie consentirebbero di ridurre entro il margine utile questo ritardo, ma appunto bisognerà giocare in trasferta, lì dove il Fano continua a far fatica, e di vittorie poi comunque, considerando anche i play-out, ne servirebbero tre per conservare il posto in categoria. Coltiva un sogno anche l'SPG Fano Rugby, quello di salire in Serie B, coronando così una stagione che sin qui è stata davvero prodiga di soddisfazioni. Alla vigilia delle sfide play-off, ospitiamo Matteo Fulvi Ugolini, mediano di mischia della squadra fanese, buonasera e benvenuto, e Stefano Rossolini, primo centro della squadra Rosso Blu, buonasera e benvenuto anche a lui. Buonasera. Siamo dunque nel periodo di pausa, tra la fine della stagione regolare, queste sfide di play-off, semifinale contro Parma, tracciamo però prima un bilancio di quello che avete già fatto, credo che siate andati persino oltre le aspettative, un cammino trionfale, credo 14 vittorie su 16, Matteo ve l'aspettavate, oppure davvero anche voi sul campo vi siete espressi, probabilmente persino meglio di quanto potevate immaginare alla vigilia. Sicuramente ci siamo espressi molto bene quest'anno, un bilancio molto positivo, forse all'inizio non ce l'aspettavamo, questo grande campionato, questo grande risultato, che sicuramente coronavamo già dall'inizio, speravamo di portare a termine. Un cammino, dicevamo, estremamente convincente, quali i vostri punti di forza? Cosa vi ha consentito più di altri aspetti di primeggiare in questo girone marchigiano-umbro della Serie C? Sicuramente il gruppo, il gruppo comunque è molto importante, siamo molto coesi, quindi sicuramente quello. Poi a livello di singoli abbiamo molti giocatori forti, soprattutto i giovani che stanno venendo su, quindi niente, i bai sono buoni. Anche per io mi pare che sia un risultato di questa stagione regolare così impressionante che parta da lontano, nel senso che questo gruppo ha fatto le sue esperienze negli anni e forse sta trovando la maturità, Matteo, in questo periodo. Probabilmente sì, abbiamo comunque cambiato diversi elementi all'interno della squadra e si sta ringiovanendo la squadra. Sto diventando il più vecchio, però sì, parte da molto lontano e quindi va bene. Speriamo di aumentare un po' i personaggi giovanili nella squadra e continuiamo così, in un salendo di emozioni, di esperienze. E di prestazioni. Vincer aiuta a vincere, si dice nello sport, nel vostro caso l'adagio ha trovato perfetta applicazione. Assolutamente sì. Infatti sì, come diceva prima Matteo, il settore giovanile insomma ci sta dando una grossa mano e dopo certo, con i numeri vengono tutto più semplice. Quali le squadre che vi hanno impensierito di più in questa stagione regolare, con chi in particolare vi siete dovuti misurare in un testa a testa particolarmente a vicenda? Sicuramente Città di Castello è stata la squadra più intensa, anche perché l'andata da loro abbiamo perso per pochissimo, anzi forse più per colpa nostra. Però comunque Città di Castello e Ancona sono due belle squadre che ci hanno fatto in pensierina e ci hanno fatto sudare. Certamente non vi ha dato grandi pensieri la Ternana nell'ultimo turno, perché come vediamo dalle immagini è stato un successo larghissimo, addirittura una 50 a 0 in una gara evidentemente a senso unico che avete disputato a Senigallia, perché come è noto il Falcone Borsellino sarà indisponibile ancora per diverso tempo. Sono iniziati i lavori di adeguamento che consentiranno in futuro alla squadra fanese di disporre di un impianto all'altezza e questa è naturalmente una vostra aspettativa finalmente giocare in un impianto dedicato al rugby con un fondo insintetico e quindi in qualche modo in grado di agevolare anche le prestazioni tecniche. Assolutamente sì, infatti entro fine anno dovremo avere a disposizione il nostro campo e contribune il campo insintetico appunto che sicuramente è un bel aiuto anche perché ci salina molta gente e con un campo in erba diciamo e la pioggia si rovina facilmente. Un rugby d'epoca mentre quello che potrete in futuro appunto sviluppare su un fondo insintetico è un po' il rugby di questa generazione di giocatori e di squadre. Matteo Fulvio Golini vediamo ancora le immagini di questa sfida con la Ternala dal punto di vista invece del gioco quali le caratteristiche principali di questa SPG? Diciamo la velocità sullo spazio il peso in mischia la tecnica in mischia comunque è la velocità anche all'esterno permette a questo fano rugby di arrivare lì vicino alla vetta spero arrivare all'obiettivo finale che sia la Serie B insomma. Abbiamo detto della continuità che è un aspetto sempre importante nello sport la stessa guida tecnica ormai da qualche anno Walter Colla Iacomo che credo recentemente abbia conseguito anche la laurea in sociologia esatto sì cogliamo l'occasione per fargli i complimenti anche questo è un elemento che ha contribuito alla vostra crescita? Assolutamente sì è con noi da ormai qualche anno e con lui stiamo facendo un bel percorso insieme a Franco Tonelli che è allenatore della mischia e speriamo che sia ancora per molto e di raggiungere gli obiettivi prefissati Abbiamo detto dell'aspetto tecnico ma anche avere alle spalle una società solida che riesce a sviluppare anche un discorso molto articolato sul settore giovanile ha un valore Matteo assolutamente quindi speriamo che continui la ricerca di giovani all'interno del fanoregby e che ci sia una crescita insomma importante all'interno del fanoregby Hai detto che sei uno dei più anziani senti anche la responsabilità di dare il buon esempio in uno sport il rugby che di buoni esempi ne dà spesso Assolutamente sì ormai mi sento devo stare attento a quello che faccio naturalmente e soprattutto devo dare sì il buon esempio all'interno del campo con i giovani che recepiscono molto quello che fai vedere e quello che dici all'interno del campo Insomma Uno sport modello sul piano della sportività il rugby è questo l'aspetto di questa disciplina che ti ha indotto Stefano a scegliere a preferirlo magari ad altri sport Sì sono passato per altri sport ho iniziato a 15 anni e dopo una volta iniziato non l'ho più lasciato ovviamente Comunque sì quello sicuramente il gruppo l'amicizia quello sicuramente è un aspetto che mi ha fatto scegliere questo sport più di altri motivi ecco Dal punto di vista del giocatore che sei come ti descriveresti invece? Qual è il tuo bello e il tuo diciamo brutto tra virgolette? Allora bello che posso ricoprire più ruoli è brutto che alle volte sono un po' un po' testone sia in campo che che in generale Diciamo ostinato Ostinato sì Invece dal punto di vista personale Matteo come ti racconteresti come giocatore? Io pragmatico però a volte sono anche troppo diciamo Impulsivo Non impulsivo più che altro mi arrabbio facilmente sento molto l'agonismo e quindi vorrei che chi ho al mio fianco faccia lo stesso quando vedo che il ritmo cala oppure che le persone non ci mettono il giusto impegno un po' mi agito Il rugby che all'esame di un profano alla vista di un profano servirebbe riservato a persone molto strutturate fisicamente nel vostro caso sì la struttura fisica c'è ma è di quelle che rientrano nella normalità quindi si può giocare a rugby anche con un fisico tra virgolette normale? Assolutamente sì anche con un fisico esile ne abbiamo anche un esempio all'interno del del circuito nazionale che è Angi Capozzo che è molto esile ha un peso di circa 70 kg quindi qualsiasi qualsiasi persona può giocare nel rugby anche da noi abbiamo qualche esempio di qualche ragazzo molto esile però soprattutto in certi ruoli c'è un ruolo per tutti dal punto di vista invece dei playoff spostando l'esame a quelle che saranno le sfide che vi attendono mentre passano altre immagini delle care che avete disputato in questa stagione avversario della semifinale playoff poi ci sarà la finale con la vincente dell'altra semifinale è il Parma squadra che avete già affrontato in passato ma non in questa stagione gara d'andata domenica in trasferta poi ritorno in una sede ancora da individuare perché ovviamente non avete a disposizione Falcone Borsellino cosa vi immaginate di questa partita se avete qualche notizia della squadra che andate ad affrontare magari in relazione all'Urolindo di Marcia che ha tenuto in questa stagione Matteo sicuramente è una squadra molto più strutturata per certi versi da noi ha una categoria in Serie A e quindi ci aspettiamo che qualcuno possa dare manforte alla squadra in cadetta e sì sicuramente è una squadra molto strutturata ha molta più esperienza di noi ma vedremo poi all'interno del rettangolo di gioco come si metteranno le cose sicuramente daremo il 100% e vedremo il 28% insomma non è una novità confrontarsi con squadre cadette voglio dire squadre di società espressioni di società che poi hanno appunto squadre anche in categoria superiore cosa significa è qualcosa di diverso rispetto al confrontarsi con squadre che invece appartengono a società che non hanno appunto formazioni in categorie superiori sicuramente sì oltre per il passaggio di giocatori ma anche per una questione societaria società storiche con diversa visibilità un diverso bacino quindi sicuramente insomma sono squadre più temibili forse rispetto ad altre che troviamo più nella nostra zona diciamo che al nord è più sviluppato e comunque mi pare che non vi possiate più riascondere insomma l'obiettivo a questo punto diventa raggiungere questa serie B e sarebbe un salto di qualità per il rugby fanese storico certamente ma anche direi in qualche modo in linea con quello che è stato il percorso seguito in questi anni e anche la vostra valutazione Matteo sì assolutamente naturalmente l'obiettivo è sempre salire come tutte come la vita diciamo puntare in altro alle sfide fare sempre meglio esatto quindi Stefano questa serie B ci si può credere davvero o è soltanto un sogno direi di sì è qualche anno difficile da realizzare che arriviamo che siamo lì ma ci manca l'ultimo passo e speriamo di fare in modo insomma che questo se l'hanno forse con i dovuti che se l'hanno buono insomma toccando ferro giocavate giocherete la prima partita in trasferta poi quella in casa appunto non a Fano comunque penso possiate contare ugualmente anche se non giocherete a Fano sull'apporto dei vostri tifosi credo che ci sia un seguito comunque consistente dietro questa squadra sì assolutamente anzi credo che verranno su anche in trasferta a vedere a vedere il loro Fano speriamo che siano numerosi e tutto qui attorno a questo rugby fanese avete sentito in questi anni crescere l'attenzione rispetto a quando avete cominciato sì infatti si vede la domenica alle partite e questo ci fa tanto piacere perché insomma giocare con un bel pubblico fuori aiuta tanto abbiamo già fatto cenno all'attività che viene svolta a livello giovanile e anche da questo punto di vista i numeri sono molto saliti negli ultimi anni e di questo va dato atto naturalmente alla società che evidentemente ha fatto un lavoro di reclutamento e si è posta comunque come modello virtuoso nell'ambito della proposta sportiva cittadina Matteo sì assolutamente adesso abbiamo dei numeri importanti a livello giovanile anche perché tutto si basa sulla gioventù se non riusciamo a cogliere i ragazzini a portarlo all'interno del rugby poi dopo tutto il resto muore le fondamenta sono molto più deboli con il tempo Fano Rugby che appunto negli ultimi anni è molto cresciuto credete che questo faccia riscontro anche proprio ai valori di cui facevamo cenno prima i valori che il rugby trasmette a differenza magari di altre discipline in cui questi valori non emergono sempre in maniera così chiara Stefano sì sicuramente un bel ambiente e comunque sì anche il discorso il post partita insomma il famoso terzo tempo è molto amichevole certo in campo ovviamente dopo lì lo sport di contatto è normale e che contatti però una volta finito tutto insomma tutti amici e allora lasciamoci con un pronostico secco cosa si fa a Parma e se credete che appunto la questione possa in qualche modo essere indirizzata anche da gara 1 oppure tutto si giocherà nel match di ritorno assolutamente si giocherà secondo me tutto invece in gara 1 diciamo la prima gara sarà quella più importante anche perché in casa loro ci sarà molto pubblico Parma comunque è una realtà molto importante e quindi ci dovremmo giocare tutto lì e cercheremo di portarla a casa naturalmente non ci tireremo indietro condividi questa valutazione Stefano assolutamente sì andiamo su per fare il meglio possibile e poi se c'è da aggiustare qualcosa cerchiamo di di aggiustare in casa sul piano fisico oltre che mentale la migliore condizione possibile nell'affrontare questi playoff diciamo di sì diciamo di sì per incoraggiare un po' un po' tutti qualche acciacco si fa sentire qualche infortunio sì però cose che durante la stagione succedono vanno messi in conto nell'arco di una stagione comunque impegnativa soprattutto se si parla appunto di rugby e lì il fisico insomma viene sollecitato non poco grazie a Matteo Fulvi Ugolini atleta dell'SPG Fano Rugby grazie a Stefano Rossellini suo compagno di squadra noi torniamo fra qualche istante e viviamo ora idealmente verso oriente per occuparci di arti marziali il personaggio più indicato è in questo senso Mirko Giusti presidente dell'ASD Gong Yao buonasera e benvenuto buonasera e accanto a lui e poi chiariremo il motivo della sua presenza la presidente di ASI Pesaro Urbino Francesca Petrini che è tornata a trovarci buonasera buonasera ben ritrovata dicevamo arti marziali il focus dell'attività di Gong Yao ma facciamo come sempre in questi casi un po' di storia quando siete nati perché siete nati che obiettivi vi siete fissati nel momento in cui avete fondato questa attività la Gong Yao ASD nasce nel 2020 per opera mia e di alcuni istruttori miei allievi che poi sono diventati istruttori abbiamo messo in piedi questa collaborazione e quest'idea questo progetto purtroppo in periodo covid ma ci ha portato bene abbiamo preso in affitto un locale a Bellocchi di Fano e da lì adesso stiamo sviluppando questo questo progetto di arti marziali Kung Fu e Tai Chi rivolte ai bambini adulti e anche diciamo un target un po' più di età un po' più avanzato la gente delle arti marziali ha un'idea se vogliamo un po' generica allora vediamo di definirla un po' meglio hai già accennato alle due diverse discipline quali sono le caratteristiche allora nella nostra scuola si pratica Kung Fu stile Chou Liefat adesso entro un po' più nello specifico che è un'arte marziale cinese in particolare del sud della Cina e poi Tai Chi Chuan stile Yang sono due arti marziali complementari perché l'una la prima si rivolge più un aspetto marziale combattivo la seconda più un aspetto meditativo se vogliamo interiore con il Kung Fu con la prima diciamo con la prima specialità di Chou Liefat ci rivolgiamo soprattutto a un pubblico di bambini teenager e adulti mentre il Tai Chi è rivolto in particolare a una fascia un po' più alta di persone a cui interessa non solo l'aspetto marziale ma anche un aspetto un po' più anche di crescita personale se vuoi si parla spesso di meditazione in movimento facendo riferimento al Tai Chi e quindi c'è un lavoro particolare e interessante comunque abbiamo visto alcuni bambini all'opera come vi dedicate a questi bambini quali sono i concetti e i principi che adottate nel seguire appunto questi bambini che si avvicinano a queste discipline che qualcuno magari ecco su piano teorico può anche giudicare un pochino eccessive diciamo così rispetto a quello che è il bambino la bambina che si avvicinano appunto a queste discipline il Kung Fu è uno sport molto completo che coinvolge fisicamente l'allievo in maniera totale coinvolge tutti i gruppi muscolari e non solo atleticamente ma anche direi richiede uno sforzo o un apprendimento della parte coordinativa io dico sempre della consapevolezza corporea che può essere pari a una danza classica ad esempio naturalmente noi non facciamo danza classica ma tutta la nostra attività è rivolta alla marzialità in particolare con i bambini facciamo delle lezioni in cui si lavora sulle tecniche dei piedi quindi calci pugni e armi e una lezione in cui si lavora a terra quindi con dei principi di lotta a terra proiezioni e via dicendo naturalmente con i bambini facciamo le basi con i teenager facciamo un lavoro un po' più approfondito e con gli adulti cerchiamo di fare cose un po' più complete anche magari di un altro livello cosa è che piace di più ai bambini? sicuramente i bambini i miei bambini piace tutto vedo la lotta a terra probabilmente riescono a esprimersi meglio hanno diciamo si sentono un po' più liberi anche perché essendo un'arte marziale noi ci teniamo alla disciplina al rispetto all'amicizia nei confronti degli altri allievi nei confronti di se stessi quindi diamo punizioni pretendiamo una certa etichetta ecco invece cosa colpisce di più che è un pochino più grande? allora sicuramente per quanto riguarda il Kung Fu è la varietà delle tecniche considera che abbiamo circa 100 tecniche di mano e circa 50 armi è una miriade di forme che sono sequenze e combinazioni di tecniche varie circa 180 sequenze da oltre 100 movimenti ognuna e quindi spaziamo in tantissime direzioni quindi diciamo che il Kung Fu vedo che diverte il Tai Chi probabilmente la gente o perlomeno anche a me piace perché avvicina un po' a quello che magari la società l'ambiente esterno ci porta un po' lontano da questo un po' a se stessi alla consapevolezza allo star centrati ecco questo è il Tai Chi qual è il numero di iscritti alla vostra palestra e qual è il range partiamo dal più piccolo per arrivare diciamo non al più anziano ma al più adulto allora attualmente siamo circa un centinaio tra tutti i corsi compresi quelli di ginnastica funzionale facciamo anche corsi di ginnastica funzionale rivolte a teenager e ad adulti abbiamo corsi Kung Fu per bambini da sei anni anche a cinque poi si valuta anche caso per caso fino agli adulti di oltre 70 anni senza nessun problema e quindi è una disciplina sono discipline che si possono praticare anche con l'avanzare degli anni sì 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 naturalmente ogni persona cerca qualcosa di diverso e da noi riesce a trovare tutto anche nel Tai Chi che è un'arte marziale noi la trasmettiamo in maniera tradizionale quindi non tralasciando l'aspetto marziale della disciplina però c'è magari chi viene solo per la parte di ginnastica dolce o c'è chi viene solo per la socialità che è anche un aspetto importante dell'attività sportiva in generale e anche da noi ha rivesso il suo ruolo hai già accolto questo aspetto del benessere che credo trattandosi di discipline orientali è centrale sì benessere benessere per quanto riguarda le attività le arti marziali il benessere io lo vedo come un benessere globale quindi non solo fisico ma psicofisico uno quando sta bene col corpo sta bene con se stesso e viceversa e quindi nella nostra palestra cerchiamo di cerchiamo io e gli altri istruttori di mettere al centro la persona la persona con tutte le sue necessità le sue problematiche le sue necessità e le sue richieste e vecoliamo queste necessità cerchiamo di raggiungere gli scopi per cui uno viene da noi attraverso le arti marziali o la ginnastica giustifichiamo ora la presenza di Francesca Petrini direi che dalla conversazione che abbiamo sviluppato magari qualche elemento si può già dedurre però come entra in gioco ASI e come interferisce interagisce con Gonghiao l'ASI è un ente di promozione sportiva e abbiamo diverse società affiliate ad ASI ma ormai l'ente di promozione sportiva non può essere più solo un ente affiliatore è un ente che dà una serie di servizi e la Gonghiao è una nostra affiliata da anni in questa crescita appunto dicevo abbiamo attivato diversi servizi diversi uffici uno di questi uffici è proprio l'ufficio bandi e progetti e quindi siamo entrati in contatto in maniera più diretta con Mirko e con la Gonghiao appena è uscito il bando appunto di sport e salute il bando inclusione e niente insieme a Mirko abbiamo deciso di partecipare a questo bando essendo più esperti abbiamo messo insieme le nostre forze e quindi attivato delle sinergie per proprio ideare il progetto da zero per metterlo su carta quindi progettarlo e proporlo presentarlo l'ASI in questo ormai ha esperienza e quindi ha regalato la sua esperienza a una società affiliata appunto in questo caso la Gonghiao come ha per chiuso una parentesi ne ha fatto già con altre società abbiamo vinto già diversi progetti e attualmente ce ne sono un sacco attivi di cui ASI appunto ha dato le basi o comunque ha aiutato per partecipare eventualmente anche vincere al bando e poi l'ASI è contenta di fare in modo che la Gonghiao sia capofila e magari si tiene qualche azione per sé e quindi entra in gioco come partner quindi in modo particolare ecco questo progetto che la Gonghiao ha vinto come capofila e io sono presente perché appunto anche noi facciamo un'azione all'interno di questo progetto e come si articola in concreto questo progetto con il quale vi siete aggiudicati dei fondi perché poi comunque si tratta di attività che richiedono un impegno anche finanziario e tra l'altro questa proposta si caratterizza per la gratuità mi pare di capire sì grazie a Sport e Salute possiamo offrire dei corsi gratuiti in particolare di tutte le nostre discipline quindi di Kung Fu per bambini Kung Fu per adulti Tai Chi per adulti ginnastica funzionale e ASI ci affianca con l'attività sportiva della camminata e quindi sono tutte attività sportive che possiamo offrire in quanto già le sappiamo fare e le sappiamo insegnare ma soprattutto sono gratuite sia iscrizione che quota mensile a carico dell'iscritto c'è solo il certificato medico quindi penso che sia una cosa molto bella utile perché consente consentirà perché il progetto è iniziato quest'anno ma sarà valido anche per 2025 a tutti quelli che vogliono affacciarsi a queste attività o non possono permettersi altre cose di altre attività di comunque fare attività sportiva completamente gratuita una leva di non poco conto perché viviamo in un momento in cui molte famiglie fanno difficoltà a far quadrare i conti per cui avere la possibilità di accedere ad uno sport ad una disciplina in questo caso le arti marziali è qualcosa di estremamente rilevante abbiamo toccato temi come la socialità il benessere l'inclusione temi sui quali ASI credo si ritrovi ampiamente è così sì certo ovviamente ci ritroviamo ampiamente noi lavoriamo con i bambini piccolissimi cominciamo il progetto contatto con bambini di 2-3 anni abbiamo attività di multisport ovviamente lo sport per i bambini dai 4 ai 10 anni i centri estivi jump che conosciamo tutto in funzione di una vita sana attiva sani stili di vita fino ad arrivare al settore adulti anziani che comunque è molto ricco e attivo anche quello quindi proponiamo diversi corsi sia per adulti che per anziani sempre in prospettiva sempre per il benessere per la salute di tutti e appunto per questo ci siamo inseriti con l'azione all'interno di questo progetto con l'azione della camminata ovvero ci incontriamo tutti martedì sera alle 8 partiamo dalla palestra Nuti di Fano e abbiamo cominciato a marzo e siamo già una cinquantina di persone nelle più svariate età sì diciamo dai 35 in su e ripeto è gratuito come ha detto Mirko è tutto gratuito basta compilare un modulo vabbè l'iscrizione per avere i dati da mandare a sport e salute dalla Nuti partiamo e andiamo verso il Pincio ci fermiamo sotto l'arco d'Augusto perché un piccolo gruppo di persone ci raggiunge lì o perlomeno si inserisce e poi facciamo una passeggiata in centro o lungo verso il mare e ci sono dei momenti in cui il gruppo si ferma per fare due esercizi ma anche per ricompattare il gruppo e poi si riparte tutti insieme e la camminata per finire sul lungomare e poi ritornare su nel punto di partenza sempre alla palestra Nuti dura un'oretta o poco più e facciamo 5-6 km quindi questa è anche la velocità che teniamo cioè 5-6 km orari quindi è una camminata adatta a tutti l'insegnante Alberto è l'insegnante di educazione fisica conduce il gruppo tiene il ritmo e parla con le persone e siete tutti invitati siete tutti invitati perché se tutto va bene andiamo avanti fino a ottobre anche durante il periodo estivo probabilmente cambiamo il percorso però insomma poi ve lo faremo sapere da camminatore seriale non faccio fatica a cogliere l'importanza del camminare io lo faccio individualmente in questo caso anche l'aspetto della collegialità della socialità dell'aggregazione assume un rilievo fondamentale fondamentale perché comunque in questa oretta si sta in compagnia e camminando c'è la possibilità anche di chiacchierare perché comunque stai camminando quindi di solito ecco si fanno i gruppetti tra di loro le persone si fanno compagnia vicenda poi si entra un po' nel mondo oasi che in realtà è strutturato con una serie di attività gratuite formative informative aggregative cene conviviali quindi poi entri in un mondo dal quale insomma poi insomma fai aggregazione fai attività sociale conosci persone torniamo alle arti marziali svolgete la vostra attività in questa palestra di bellocchi per il futuro pensate a qualcosa di più in grande avete dei progetti avete delle idee avete dei sogni ma guarda la palestra è stata aperta appena 4 anni fa sono 450 metri quadrati interni poi abbiamo un grande piazzale frontale dove facciamo le attività all'aperto per adesso lo spazio ci basta ne abbiamo tanto sicuramente sì sogni ce ne sono grazie al bando siamo partiti con l'attività di difesa personale che era diciamo un campo su cui non c'eravamo sperimentati sta andando bene ci piace stiamo provando vedo che anche gli allievi è una cosa che attira e quindi sì ed il resto è un filone purtroppo d'attualità esatto esatto serve diciamo che serve forse da un punto di vista mentale più che fisico perché per difendersi è sempre richiesta una preparazione fisica notevole però forse agite sulla leva della consapevolezza esatto sicuramente la consapevolezza è un punto di forza è importante in quei momenti in cui la difesa personale ci viene in soccorso e quindi quello sì quello sì naturalmente attraverso le tecniche l'allievo impara la consapevolezza e riesce a capire il momento a capire il momento e cosa fare nel momento che poi non c'è una tecnica che funziona e una no c'è la capacità di essere presenti nel momento e quello è fondamentale in generale qui il discorso appunto si fa più ampio è fondamentale specie quando si parla di attività molto specifiche come le arti marziali disporre di istruttori all'altezza quindi anche la formazione assume appunto un ruolo centrale così sì diciamo io sono mai più di vent'anni che faccio arti marziali i miei istruttori sono quasi tutti oltre almeno dieci anni che insegnano e quindi sì perché innanzitutto la base è essere un artista marziale con passione avere la passione poi c'è anche la passione per l'insegnamento che è una cosa in più che non tutti hanno io sono fortunato perché gli altri gli altri istruttori sono come me ci tengono tengono all'allievo tengono alla scuola e tengono la trasmissione di quest'arte che non è affatto facile né da imparare né da insegnare però siamo tutti molto soddisfatti dei risultati grazie a Mirko Giusti presidente di Gong Yao grazie a Francesca Petrini presidente di Asi Pesaro Urbino grazie come sempre a tutti voi per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti